Buongiorno telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su nettunotv.tv edizione del pranzo del telegiornale del canale 99. Apriamo subito con una cronaca di un episodio che è avvenuto proprio questa mattina. È apparsa una scritta minacciosa e sicuramente non positiva. La vediamo in questo momento grazie alle foto anche dei nostri giornalisti sulla vetrina del negozio Benetton con la vetrina che dà su via Fossalta in centro a Bologna. La scritta dice Genova sappiamo il nome di chi è stato, noi resistiamo con anche il simbolo del gruppo evidentemente anche da un'altra angolazione. È apparsa appunto questa mattina sulla vetrina ovviamente inerente a tutto quello che è successo a Genova e le polemiche che ne sono poi scaturite nei giorni successivi e che ancora oggi ovviamente non accennano a placarsi. La scritta poi è stata però prontamente ripulita dalle ragazze, dalle lavoratrici e dalle dipendenti del negozio del centro, da Benetton. Quindi adesso non è neanche più visibile, ci sono soltanto i residui a terra, stiamo vedendo adesso in questo momento proprio i residui a terra della vetrina. È stata subito ripulita ma insomma sicuramente un episodio che lascerà strascichi e farà parlare. Ancora a cronaca un drammatico incidente questa mattina a Sant'Agata Bolognese dove sono intervenuti i carabinieri in via Modena. I militari hanno eseguito i rilievi di un incidente stradale tra un'automobilista 32enne italiana alla guida di una Citroen C3 e un motociclista invece 51enne modenese in sella alla sua Triumph. Ad avere la peggio è stato ovviamente il motociclista che è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Bologna. Ancora la cronaca si torna a parlare di furti, ultimi giorni di vacanza, la città è vuota, tante case vuote ovviamente. I topi d'appartamento ne approfittano, hanno approfittato infatti dell'assenza della padrona di casa per rubare all'interno di un appartamento in zona a murri. I ladri che hanno agito indisturbati anche perché erano quasi tutti via per le vacanze estive hanno messo a suo quadro tutta la casa a caccia di oggetti preziosi da rubare. A quanto sembra avrebbero aperto anche la cassaforte trovata all'interno dell'abitazione per portare via soldi e gioielli. L'allarme è scattato l'altro pomeriggio, ha portato la polizia ad effettuare un controllo in zona e nell'appartamento stesso, anche con la scientifica a caccia di impronte, utili per risalire all'identità dei malviventi. Ad accorgersi del furto è stata la figlia della proprietaria di casa, visto appunto che la madre era via per le vacanze, la donna avrebbe trovato la porta dell'appartamento aperta, segno che i ladri non avrebbero neanche fatto troppa fatica per introdursi all'interno dell'abitazione. Dopo aver scoperto il furto quindi la vittima ha chiamato la polizia che ora attende denuncia formale da parte della proprietaria di casa che non ha ancora però quantificato i danni subiti e cosa sia stato rubato. Potrebbero essere utili inoltre anche eventuali telecamere di videosorveglianza installate in zona o nelle vicinanze del palazzo per ricostruire i movimenti dei banditi e ottenere così indizi utili alle indagini. È tempo di vacanze dicevamo ma è tempo anche, tanti sono al mare, tanti sono in montagna, quelli in montagna sicuramente faranno loro le escursioni ma le escursioni sono sempre molto pericolose e bisogna stare attenti. Infatti in tempo di escursioni ci sono state ancora persone in difficoltà sul nostro appennino, sono stati due gli interventi del soccorso alpino. Nella giornata di ieri alle 13.05 è stato attivato il corpo nazionale soccorso alpino del corno alle scale dal gestore del rifugio Duca degli Abruzzi per una signora di 78 anni proveniente con un gruppo di amici da Cutigliano in provincia di Potenza la quale dopo una distorsione alla caviglia non poteva più proseguire. Restabilizzata la paziente è stata poi trasportata fino alle polle col mezzo di soccorso e successivamente accompagnata in ambulanza all'ospedale di Porretta per gli accertamenti ortopedici. Non si esclude che ci sia anche una frattura. Alle ore invece 11.30 mentre il personale del corpo nazionale soccorso alpino stazione Monte Cimone si trovavano sulla cresta del monte Alto Retto, sentiero 00 hanno notato tre escursionisti in difficoltà un uomo di 72 anni e due ragazze di 17 e 38 che sul passaggio più complesso e disposto del sentiero si erano bloccati a causa della difficoltà. I tecnici sono intervenuti, li hanno messi in sicurezza consentendo loro di passare la parte complicata e poter riprendere il percorso autonomamente. Gli escursionisti erano provenienti da Lucca. Quindi attenzione, mi raccomando, se siete in Appennino andate a fare le passeggiate e le escursioni siate sempre molto prudenti. Cambiamo argomento ma rimaniamo in Appennino perché si è conclusa l'edizione di Art Tolè nel paesino proprio di Tolè in Appennino bolognese stiamo vedendo anche le immagini di tutta la fiera infatti domenica 19 agosto il consueto pubblico delle grandi occasioni ha preso parte alla 21esima edizione di Art Tolè organizzata dall'Associazione Fonte Chiara in collaborazione con il Comune di Vergato e l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese. Botteghe di artisti hanno popolato infatti il centro storico insieme ai mercatini dei prodotti artigianali mentre la sfilata di un costume ha attraversato le vie del paese accompagnata dalla fattoria ambulante di Tinto Grass. Hanno festosamente preso parte alle celebrazioni anche un gruppo di ragazzi africani richiedenti asilo e ospitati nel vicino centro di Monte Pastore che hanno dato una mano agli organizzatori e suonato e ballato per i partecipanti. Nel centro storico sono state poi inaugurate alla presenza del sindaco di Vergato Massimo Gnudo e tre nuove opere pittoriche di Daniela Caprano, Tina Gozzi e Maria Spichting che hanno arricchito uno degli angoli più suggestivi e fotografati del borgo, il cosiddetto Vicolo dei Gatti. Gli stand gastronomici poi sono invece stati allestiti nel parco della Birichinaia da tempo meta di visite guidate da parte di scuole materne e associazione. L'area piena di giochi e spazi per i picnic con le opere ed arte è diventato anche un punto di riferimento per le famiglie e per gli adolescenti. Sono state inaugurate le nuove opere pittoriche di Nadia Cristoni che ha contribuito alla realizzazione della casetta della strega Birichina e quella del nonno dell'Alpe. Insomma una grande festa per la ventunesima edizione della fiera di Art Tole. Passiamo invece ora allo sport. Il Bologna continua la sua preparazione in vista della partita di domenica contro il Frosinone. Oggi per i ragazzi di Pippo Inzaghi svolgeranno un doppio allenamento al centro tecnico Nicolo Galli questa mattina si è svolto il primo alle ore 10 a porte aperte questo pomeriggio invece alle 17.30 ci sarà la seconda seduta. Per ora è tutto dal nostro telegiornale grazie di averci seguito, grazie alla regia di Filippo Patti vi ricordo la seconda edizione questa sera alle 19.15 un buon proseguimento di giornata.